Un grazie di cuore, intanto grazie a Mattia Palazzo perché l'idea è stata sua l'altro giorno quando abbiamo fatto la riunione e questa riunione ha avuto un bel po' di idee e in quella riunione si disse perché non facciamo subito un incontro e questo incontro è un incontro nel quale mettiamo immediatamente a frutto già le cose che abbiamo elaborato e che elaborate anche nella vostra chat, nelle riunioni che coordinate da Matteo Ricci avete fatto e avete fatto con grande efficacia fino adesso e io sono molto contento del fatto che ci siamo visti 5 giorni fa, 4 giorni fa e oggi siamo qua con le proposte, le proposte portate da tante sindache e tanti sindaci a partire dalla loro esperienza concreta questo secondo me è fondamentale, importante e soprattutto diventa da subito il terreno di lavoro della nostra campagna elettorale oggi è un giorno importante perché primo agosto molti di voi sono venuti qua prendendo il treno immagino avete visto nelle stazioni italiane, siamo il primo partito che ha iniziato la campagna elettorale avete visto le stazioni con la nostra cartellonistica, le nostre proposte credo che sia almeno secondo me un fatto molto importante che noi abbiamo già deciso di esserci di non perdere assolutamente tempo anche perché saranno 50 giorni di corsa e quindi è importante subito posizionarsi ed è importante che lo facciamo sui terreni di cui abbiamo parlato qui ho ascoltato cose molto concrete dalla salute alla sicurezza, le grandi questioni legate all'ambiente sono state poste, presentate con un atteggiamento come ha detto Giorgio prima in modo molto pragmatico, molto concreto, credo che sia effettivamente la modalità che vi consente di avere caro Antonio il consenso delle cittadine e dei vostri cittadini ed è esattamente quello che noi dobbiamo traslare nella nostra grande campagna elettorale da qui al 25 settembre innanzitutto mi preme qui dire che come ho sposato subito la proposta di vederci qui oggi sposo subito un'altra proposta che aveva lanciato Dario Nardella nella riunione che abbiamo fatto l'altro giorno cioè quella di avere un momento di spinta dell'ultima settimana di campagna elettorale saperlo subito credo che sia la cosa migliore in modo tale che ci si possa organizzare subito il 18 settembre faremo la chiamata e la raccolta di tutti i nostri amministratori e quel 18 settembre sarà il momento col quale entreremo nell'ultima settimana di campagna elettorale sappiamo tutti che le elezioni si decidono nell'ultima settimana e noi vogliamo entrare nell'ultima settimana di campagna elettorale guidati da voi da voi sindache, da voi sindaci credo che sia il modo migliore per cominciare quell'ultima settimana veramente con lo spirito giusto quindi lo dico subito già a tutti sappiamo che il 18 settembre poi decideremo insieme tutte le modalità saremo tutti insieme e daremo questo messaggio finale per l'ultimo miglio della campagna elettorale vorrei che l'ultimo miglio della campagna elettorale fosse nel nome delle sindache dei sindaci del riformismo pragmatico di cui avete parlato e dell'attenzione ai territori, dell'attenzione alla prossimità hai parlato di prossimità, l'hai fatto molto bene è uno dei temi e dei terreni che io considero, consideriamo tutti fondamentali in una campagna elettorale nella quale ovviamente siamo tutti impegnati con un obiettivo fondamentale l'obiettivo fondamentale è che noi questa campagna elettorale non siamo decuberteniani ma siamo assolutamente anti decuberteniani nel senso che noi corriamo per vincere, non corriamo per partecipare e siccome corriamo per vincere lo vogliamo fare con i temi giusti motivo per il quale siete qui voi che siete i visi, i volti del nostro partito del nostro modo di essere su tutti i territori d'Italia vogliamo farlo con le idee giuste, i programmi giusti quelli che voi avete usato nelle vostre città e che stanno vincendo nelle vostre città perché li hanno portato a essere riconfermati con grandi risultati e ovviamente con delle alleanze che siano quelle giuste e colgo questa occasione anche per dire qualcosa su questo tema io ho appena fatto un appello che voglio qui ribadire un appello a tutti coloro con i quali abbiamo discusso e stiamo discutendo in queste ore noi abbiamo tutti una grande responsabilità la grande responsabilità è quella di non far sì che in Italia le destre sovraniste siano quelle destre sovraniste che finiscano per prendere il testimone dal governo Draghi credo che sarebbe la contraddizione più stridente nella storia del nostro paese immaginare che da Draghi si passi a un governo sovranista che ha i suoi punti di riferimento in Europa nel governo ungherese di Orban e in quello polacco credo che sia uno scenario che noi dobbiamo avere ben presente e che dobbiamo evitare tutti noi abbiamo la responsabilità di evitare questo scenario di evitare l'idea che nel nostro paese le destre sovraniste quelle destre che sui territori l'avete raccontato molto bene fatto riferimento alla questione degli asili nido in un modo perfetto Giorgia Meloni si riempie la bocca di asili nido le sue amministrazioni sono quelle che chiudono gli asili nido una contraddizione stridente tipica del modo di fare della destra populista che parla parla fa post e poi nella realtà la pratica è tutt'altra io credo che questo impegno nostro a costruire alleanze che siano in grado di renderci ancora più forti e più competitivi stiamo crescendo ma dobbiamo essere bravi in questo alleanze che siano larghe e che ci consentano di essere forti e competitivi sapendo che noi del Partito Democratico abbiamo un elemento in più noi crediamo fortemente nello spirito di coalizione noi ci facciamo carico un po' come i fratelli maggiori fanno di dare rappresentanza a tutte le anime della nostra coalizione un po' come fate voi sindaci voi sindaci avete tutti sulle vostre spalle la necessità sempre di dare rappresentanza a tutti i soggetti alle anime che avete all'interno delle vostre coalizioni e io credo che questa nostra responsabilità non vada dileggiata questa nostra responsabilità è un grande valore e se non ci fosse il Partito Democratico a fare questo alla fine sarebbe effettivamente molto complicato immaginare di trovare poi sul territorio alleati o persone con le quali fare un percorso che consenta di creare l'alternativa alla destra ed è questo tema del dare diritto di tribuna per esempio alle diverse anime del centro-sinistra io lo considero non un tema di dileggio un tema nel quale prenderci in giro nella nostra modalità non è che noi vogliamo dare diritto di tribuna a qualcuno perché ne condividiamo tutto il programma o tutte le idee dare diritto di tribuna vuol dire considerare l'importanza che le tante anime del centro-sinistra abbiano presenze che questa presenza sia una presenza corale che consente effettivamente a tutti di esserci e consente di creare credo questa alternativa in modo sempre più vincente perché questa alternativa si costruirà se siamo in grado veramente di convincere tutti e per convincere tutti non bisogna essere escludenti ma bisogna essere inclusivi quindi io voglio qui dire che il nostro appello l'appello che è appena fatto è l'appello per includere non per escludere io sono pronto a incontrare tutte le anime del possibile centro-sinistra che dobbiamo presentare tutte le anime da quelle liberali riformiste riformatrici a quelle più di sinistra più ambientaliste a quelle civiche e ovviamente anche Carlo Calenda e Benedetto della Redova che hanno ieri sera scritto un appello in questo senso ma lo voglio fare sapendo e dicendo chiaramente che lo si fa senza che si cominci con i veti le esclusioni e soprattutto con i veti personali quello è inadeguato quello è incompetente ma che metodo è questo qui di discutere e lo si fa soprattutto con patti chiari e amicizia lunga questo lo dico perché Carlo Calenda e Dio ci siamo incontrati tre giorni fa ci siamo stretti la mano e eravamo d'accordo su una strada e due giorni dopo questa strada è stata completamente ribaltata e fatta saltare e tutto è stato rimesso in discussione io sono abituato che quando ci si stringe la mano ci si guarda negli occhi e si dice siamo d'accordo si va avanti se tutto poi salta e se tutto salta subito dopo vuol dire che stringersi la mano non vuol dire niente non serve a niente e quindi io sono perché ci si incontri patti chiari amicizia lunga perché dobbiamo abbiamo la responsabilità di stare insieme e di fare un accordo e di fare un accordo elettorale che consenta al nostro paese di avere un'alternativa vincente rispetto a questa destra quindi per quanto mi riguarda disponibilissimo a farlo con lo spirito che ho appena detto che è lo spirito credo anche di dignità fatemelo dire di una forza politica la nostra che è la più importante e si cambia da essere la prima forza politica del paese rappresenta milioni di elettori rappresenta decine di migliaia di militanti e tantissimi amministratori che voi qui rappresentate quindi io qui voglio rilanciare questa disponibilità io sono disposto a incontrarci ovviamente a discutere a discutere senza preclusioni andando a trovare le soluzioni migliori e le soluzioni migliori nell'interesse appunto di costruire questa alternativa nello spirito che ho appena detto con lo spirito giusto cioè di capirsi guardarsi negli occhi fare i giusti accordi non escludere non veti non sportellate francamente è un metodo col quale ho fatica io a discutere quando ci si mette a discutere facendo sportellate io dico fermiamoci diciamo quali sono le cose di cui si deve parlare se abbiamo voglia di parlare e di trovare accordi bene ma altrimenti è molto difficile discutere così con questo spirito io voglio rilanciare anche grazie al forte stimolo che è venuto da tutti voi la voglia e la volontà di arrivare a delle intese delle intese che siano le migliori possibili sapendo che purtroppo abbiamo una legge elettorale così complicata forse la legge elettorale dei sindaci sarebbe tutto molto più semplice purtroppo questa legge elettorale è fatta apposta per creare confusione per rendere le cose complesse e negative ma credo che ci sia almeno da parte mia la volontà di trovare un'intesa e così voglio posizionare il nostro partito e voglio posizionare il nostro partito per cercare e far di tutto che questa intesa si raggiunga voi avete toccato dei temi che io trovo straordinariamente importanti fatemene citare uno che è stato toccato poi alla fine in conclusione dal sindaco De Caro dal sindaco Gori e che avete toccato anche molti altri di voi la questione del trasporto pubblico locale io voglio dire che il nostro obiettivo è far sì che nella prossima legislatura noi riusciamo a creare le condizioni perché si possa dare il trasporto pubblico locale gratuito ai pensionati e ai giovani nelle nostre città è il nostro obiettivo fondamentale dare trasporto pubblico locale ai giovani e ai pensionati cioè quelle parti della nostra società che hanno bisogno di un'attenzione da parte del sistema pubblico e sapendo che questa attenzione da parte del sistema pubblico sia un'attenzione forte importante e far sì che tutti possano farlo che non siano solamente alcune amministrazioni che sono amministrazioni particolarmente illuminate ma che sia veramente una regola per il nostro paese e che questa regola per il nostro paese sia in grado di incontrare un clima che sia effettivamente il clima giusto essere in grado di spingere le persone a usare il trasporto pubblico locale anche perché il trasporto pubblico locale è gratuito è la modalità migliore per far sì che quel ragionamento anche sull'ambientalismo sia un ragionamento che effettivamente diventa molto concreto il trasporto pubblico locale è il miglior alleato dell'ambiente sostituire le macchine dentro le città con i mezzi del trasporto pubblico locale è la via maestra noi vogliamo muoverci in questa direzione quindi le proposte che avete messo in campo saranno le nostre le porteremo avanti così come gli altri temi che avete toccato è evidente che ci sono alcune cose che sono più al cuore di ognuno di noi rispetto ad altre penso a quelle della salute Stefania aveva parlato di questo all'inizio ed è evidente che venendo da due anni come li abbiamo vissuti nel 20 e 21 la questione della salute ha completamente cambiato le regole e le modalità con le quali ci muoviamo ma è evidente anche che questo passa attraverso la necessità di alcuni cambiamenti radicali anche nel rapporto con le regioni sicuramente nel rapporto con i nuovi strumenti che nel PNRR sono compresi allora fatemi fare una riflessione andrò rapidamente a concludere sul tema che avete toccato tutti perché tutti voi avete nei vostri interventi fatto un riferimento pesante importantissimo alla questione del PNRR la questione del PNRR è effettivamente la chiave di tutto se mi si dovesse chiedere al di là della sloganistica perché ognuno poi lancia le cose che fanno effetto nella comunicazione ma nella sostanza qual è la questione chiave per il nostro paese dei prossimi cinque anni è quella di spendere tutti i 219 miliardi del PNRR di farlo bene nei luoghi giusti senza che ci sia fatemelo dire qui abbiamo tutti i sindaci virtuosi ma sapendo che io credo ci sia anche una preoccupazione molto forte che io sento avere perché il nostro paese è un paese di disuguaglianze e se i fondi del PNRR vanno solamente ai comuni bravi a usarli le disuguaglianze cresceranno non saranno disuguaglianze che diminuiranno quindi la necessità anche qui di mettere in campo idee e iniziative che ci consentano di far sì che invece sia veramente con lo sforzo a battere le disuguaglianze questo è un tema nazionale che dobbiamo porci credo con molta attenzione la questione PNRR è incredibilmente assente dalla campagna elettorale perché non è un tema attraente fare un post un manifesto in cui si mette la parola PNRR probabilmente non c'è nessun pubblicitario mi rivolgo a chi è più bravo di me in comunicazione che ti possa dire bravo prenderai un sacco di voti ed è evidente che è così è evidente che c'è un problema ma noi dobbiamo parlare della realtà la realtà è una realtà per la quale se siamo in grado di declinare quelle scelte che vedono voi sindaci protagonisti i prossimi 5 anni probabilmente saranno quelli nella storia d'Italia in cui i sindaci saranno maggiormente protagonisti per via del fatto che non si sono mai visti tanti soldi per investimenti e questi soldi in parte vedranno le amministrazioni locali come fondamentali volani dell'utilizzo ecco perché credo che la modalità con la quale riusciremo ad applicare le risorse a farlo per bene a rilanciare e a toccare le questioni giuste voi l'avete toccato su tanti aspetti la questione PNRR ovviamente dalla parte infrastrutturale alla parte del digitale tanti aspetti legati a questioni legate anche non soltanto agli aspetti del digitale e dell'infrastrutturale ma anche soprattutto la modalità con la quale il nostro paese cerca di disegnare il suo territorio in una modalità diversa e che sia quella con la quale costruiamo definitivamente il futuro voglio terminare dicendo che la nostra campagna elettorale sarà su questi temi e questi temi dovranno essere il cuore di una campagna elettorale che parli ai cittadini concretamente e che questa concretezza sia la concretezza con la quale voi vivete ogni giorno io vorrei che veramente voi sapete che io avrei voluto che voi foste i visi concreti delle liste del partito democratico per le elezioni politiche credo che sarebbe stato un fortissimo segnale nei confronti del paese tutto perché se c'è un luogo dove il cittadino ritrova un rapporto con le istituzioni questo luogo è il comune e voi impersonificate questi luoghi l'Italia oltretutto è l'Italia dei comuni la storia ce lo racconta e purtroppo per via della scadenza anticipata altro motivo per cui è stato così sbagliato andare a chiudere la legislatura in anticipo lo dico perché tra l'altro mi preme su questo insistere se il governo Draghi avesse avuto ancora quegli otto mesi di tempo io credo che su molte questioni che hanno a che vedere anche con le vostre priorità si sarebbero potute fare realizzare un sacco di cose importanti si sarebbe potuto completare una serie di riforme significative penso anche al tema del sociale penso a che cosa vuol dire che era pronto un accordo con i sindacati che ovviamente oggi sarà penso di peso minore di quanto sarebbe potuto essere se il governo fosse stato nel pieno della sua fiducia e io ritengo invece che si sarebbe potuto fare molto e noi dobbiamo ripartire dalle cose che erano scritte in quel discorso del presidente del consiglio Mario Draghi il 20 luglio discorso pronunciato al senato il 20 luglio in cui c'erano una serie di indicazioni che noi vogliamo portare avanti e noi vogliamo che la coalizione che vogliamo costruire è che nelle prossime ore spero la più larga possibile e la più coerente possibile siamo in grado di costruire riesca a far sì che il nostro paese possa avere e possa raccontare di una continuità rispetto a un periodo virtuoso il periodo che abbiamo dietro le spalle in cui l'applicazione del PNRR e le scelte che abbiamo fatto hanno dato una nuova speranza agli italiani io vorrei che questa nuova speranza che è iniziata nei mesi scorsi possa continuare e vorrei soprattutto che fossimo in grado questa nuova speranza di presentarla agli italiani al voto del 25 settembre ed è per questo e concludo che il 18 settembre saremo tutti insieme tutti i sindaci tutte le sindache gli amministratori le amministratrici saremo insieme per lanciare l'ultimo miglio della campagna elettorale così come oggi primo agosto lanciamo programmaticamente una campagna elettorale basata sui grandi temi che voi avete qui toccato con grande efficacia con la efficacia che deriva dalla vostra esperienza e dalla vostra naturale forza così faremo anche l'ultima settimana partirà da quel 18 settembre io vi ringrazio moltissimo vi chiedo veramente di fare il massimo in questi giorni in queste settimane di aiutarmi e di aiutarci anche sui singoli temi giorno per giorno perché tante cose accadono anche veramente di minuto in minuto ci sono fatti che accadono ogni giorno e che ci obbligano a essere anche sulla notizia e sul cambiamento anche dell'agenda di volta in volta ma questo lo spirito col quale noi vogliamo costruire questa alternativa alle destre passa attraverso voi attraverso voi sindache e voi sindaci grazie 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 grazie